Si prevede uno scontro durissimo dei commercianti della città di Cerignola in provincia di Foggia contro il sindaco locale Metta. Il motivo di questa guerra ha cominciato allo scorso primo marzo e i numerosi sensi di marcia cambiati rispetto alla normografia stradale originaria. In barma la più elementare situazione stradale in cui le autovetture potevano raggiungere i negozi con facilità. Da quattro giorni il cambiamento traumatico unito alla zona trappico limitato ha fatto scoppiare la città. Il tessuto commerciale ne esce danneggiato più che mai. I commercianti sono giustamente incavolati neri e pronti a sfidare il primo cittadino già nella manifestazione in programma lunedì prossimo davanti al comune. Ci sarà tantissima gente a protestare e tra l'altro una città fedele alle proprie tradizioni non può essere cambiata in un modo così violento in barma alla più elementare convivenza civile. venerdì sera abbiamo incontrato molti commercianti, abbiamo sentito le loro imostranze e le parole sono eloquenti. Si sta uccidendo l'economia della città. Da un evì una battaglia lunga, lunghissima, a meno che non si faccia un deciso passo indietro da parte di chi governa la cosa pubblica locale. Mimo Siena, Speciale News.